Allora, momento di relax, Alma, Alma Noce, protagonista della ragazza volato di Vilma Labate, adesso un momento di pace, ce lo prendiamo Alma, ci vuole? Senti, com'è Venezia vista dall'interno? È una lavatrice? Per termine giusto è anche lavatrice, sembra quasi stupido dirlo, però è bellissimo alla fine, veramente l'idea che sei circondato da così tanta gente che fa cinema, che ama cinema, è il posto dove uno vorrebbe essere, la destinazione, senti tu arrivi a Orizzonti con un film molto forte, con una grande regista come Vilma Labate, innanzitutto com'è stato interpretare quel ruolo, perché non è un ruolo diciamo dei più semplici insomma, e come lo hai preparato, perché insomma è bello tosto diciamo, con un eufemismo. Sì, però è anche raccontato in modo molto naturale, quindi non mi è mai stato richiesto proprio un grande sforzo in verità, io andavo sul set e pensavo che diciamo quello che c'era scritto in sceneggiatura, la scena che dovevo fare fosse quello che stava succedendo veramente, io cercavo di reagire nel modo più naturale possibile, non sempre con l'idea che comunque lei aveva una ragazzina di 16 anni che si trova a affrontare delle cose bruttissime ma anche completamente nuove. Poi con Vilma ci siamo sempre trovate molto d'accordo su come doveva essere questo personaggio. E tu hai una controparte maschile interpretata da Luca Zunice, con lui come hai lavorato? Perché anche quella è ovviamente la parte fondamentale dello snodo del film. Noi ci siamo trovati molto bene, siamo andati subito d'accordo, io quando lui è venuto a fare i provini ero lì che li facevo da spalla diciamo. Hai conoscevate già prima con Luca? No, non ci siamo conosciuti del suo provino. Poi lui è un ragazzo molto attivo, sveglio, onesto e simpatico, quindi è stato rassicurante insomma lavorare con una persona che quello che ti fa vedere è quello che è fondamentalmente. Certo, certo, senza... Sì sì, anche affrontare appunto queste scene qui alla fine è tranquillissima, con lui ci siamo sempre trovati bene, ne abbiamo anche parlato sempre cercando di farlo in un modo in un certo senso un po' leggero perché sono delle cose che già sapevamo che avremmo dovuto farle. E quindi c'era già il pensiero? C'era già il pensiero, però si cercava in un certo senso di far finta che non fosse vero quasi, no? Infatti noi abbiamo anche con Vilma questa scena, che forse è una delle scene più importanti del film, ma è stata, abbiamo girata per una giornata intera senza mai esserci parlati e alla fine della giornata non era soddisfatta né Vilma né noi e abbiamo capito che effettivamente era un discorso che andava affrontato, però era questo proprio per dire di quanto è difficile parlare di queste cose, è anche un po' la tematica del film, no? Esatto, sì, il tabù, no? Sì sì, lei non riesce a comunicare né prima né dopo. Sì sì, c'è questo blocco di ghiaccio praticamente. Senti, da Muccino a Vilma Labate come è stato il passaggio, insomma, due mondi completamente diversi, no? Sì, sono, beh sì, poi ogni regista è diverso, ogni film è diverso, Muccino è molto eclettico, è sempre lì con queste cose, che spinge, vai, urla, carica, ti fai. Zen. Non devi fare niente, lei chiedeva sempre che tutti gli attori fossero più fermi possibile, sia col volto che con la voce, che con lei, voleva proprio lavorare assolutamente in sottrazione, no? Voleva come se tutti si vergognassero un po' di quello che stava succedendo, no? Ma far finta che in verità loro non c'entrano niente con quella cosa lì, non sono. Sì sì, c'è un senso di estraneità quindi anche rispetto a quello che stava succedendo. Sì sì, una sorta di maschera che però è rigida, non c'è una vera e propria espressione. Certo. Pazzesco. Sono tutti così. Senti Alma, tu sei giovane, ma stai facendo molte cose, che è la tua attrice di riferimento? Quella che ogni tanto vedi e dici, eh, però… Eh, questo io con queste domande non sono… Perché ce ne sono troppe? Ma sì, poi ho anche questa idea che gli attori, poi senza dubbio ci sono degli attori che sono fenomenali, ma gli attori funzionano molto in base anche alla persona con cui lavorano, con il regista con cui lavorano e la persona che li sta davanti nella scena. Spesso cambiano completamente. Cambiano completamente. Lo so, io ti posso dire magari una… se vogliamo usare il termine inglese che oramai va di moda, mi viene quello, una performance che mi ha colpito tantissimo era stata quella di Isabella Gianni in Possession di Zulaski, che ha fatto una roba fenomenale, no? Sì, che penso poi abbia avuto anche dei… Sì, e dipende anche proprio dal ruolo… Sì, lei ha avuto tutta una serie di problemi psicologiche dopo, sì, sì. Però dipende anche dal ruolo che tu devi fare. Quindi io poi forse mi affeziono più all'idea del personaggio del film che guarda che ha l'attore, anche perché io mi sento completamente… non so che sono due cose diverse quello che vedo che c'è sullo schermo quello che c'è poi nella vita reale. Non che non ci siano persone che non stimi, però non saprei dirti qual è il mio punto proprio di riferimento. Senti, ti faccio l'ultima domanda perché il gioco che facciamo qui all'Hot Corner, domani devi partire per un'isola deserta e puoi portare in valigia un solo film. Un solo film, facciamo finta che c'erano ancora i dvd quindi devi mettere un dvd in valigia. Eh, domanda tra bocchetti. Eh sì. Non fai a scelterlo così, un cofanetto. Vabbè del cofanetto posso anche passartelo volendo. Eh, non lo so. Qualcosa da ridere o portarresti a una commedia oppure un… No, io devo dire che forse non sono proprio pazza. Ah, ok, quindi… Io amo molto il film un pochino più… o che sono proprio realistici come appunto questo oppure il film proprio visionari, come metti come era Lynch o come può essere… Ah. Per esempio Zulaski che dicevo prima è uno dei miei registi preferiti. Non lo so, non saprei. Forse… se potessi… ecco, se potessi avere un dvd hd perché è un film che ho visto da poco e che vedevo male. Eh? Sono le lacrime amare di Petra Wonka. Ah, di Fassbinder. E' un regista che io, mi vergogno di dirlo, ho scoperto da poco. Ah beh, comunque… Devo dire che quel film lì già lo vedevo che era… la grana purtroppo era brutta perché l'ho trovato in streaming, ma vorrei vederlo veramente perché lui ha delle luci, dei colori… Eh sì, fantastici. Vabbè Alma, allora ti mandiamo sull'isola deserta con Fassbinder, perfetto, una festa proprio… Sai che festa! Esatto, esatto. Grazie mille per essere stata Ottone con noi. Grazie. Grazie Alma.